Ok, vediamo che cosa succede adesso Vediamo che succede adesso Sto in fame una vita che non mi accetta il pollo Addirittura Va bene, Kurasame lo abbiamo messo Vai, cambiamo Bt Ora però bisogna fare Una cosa No, ho puntato Simu Ah no, ok, scherzavo Minchia, ero convinto di aver puntato Simu Madonna, mi ero cagato Mi ero cagato Laguna che spara a Zack Allora il problema è che io vorrei fare una cosa Perché io vorrei utilizzare Vorrei sfruttare anche l'effetto della BTT Cloud All'interno della sua stessa BT Quindi voglio fare un attimo così Madonna, già è al 66% Allora ma fai breve Ok Non si passa, mi dispiace Ora qua così Sto facendo una cosa abbastanza Sto facendo una cosa abbastanza Movimentata Me ne rendo conto Ma il risultato pagherà Se non l'ho uccito prima però Perché mi sa che qua Sto vedendo un po' Un po' male la situazione L'ho praticamente distrutto, già Ora qua lo spostiamo di nuovo No, no, ora qua faccio bravery Ok, facciamo così Ok 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 Quanto cazzo io ho tolto la... la ldd di EnnaCross? Mi ha ricaricato la ex! No, ma che me ne fotte, facciamolo morire, fa un culo che mi interessa, vai così... tanto... non lo facciamo breveri, anzi no, facciamo HP, facciamo proprio danni a fare schifo. Cioè la CA di Enna, insieme a quella di Leo, gli ha fatto 2 milioni e 2. Cioè ma Enna EnnaCross insieme a Leo cosa può combinare? No, ma che cosa sia la sua... non è davvero importante. Ma che cosa sia la sua... Ehi! Cioè no tu ci sono nelle nostre ricche... ok ok va bene a posto va benissimo e si può fare comunque anche di più comunque si può fare anche di più magari con qualche setup un po più elaborato possiamo fare qualcosina un po di più vabbè xande potevo fare forse 20 milioni al massimo potevamo arrivare a 20 milioni potevamo arrivare all'incirca 20 milioni peccato che non mi ha caricato l'ex di peccato che non mi ha caricato l'ex di cloud e na cross più volte perché a quest'ora ho donna 2 milioni e mezzo così a caso veramente a caso c'è praticamente ranza non ha avuto il tempo neanche di uscire